Pessime notizie in casa Milan. Sembrerebbe che ci sia una separazione imminente tra il Milan e i suoi dirigenti chiave, Paolo Maldini e Frederic Massara. Stando alle ultime informazioni, l'incontro tra Maldini e il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha portato a una rottura. Secondo Gianluca Di Marzio, la colazione di oggi tra Maldini e Cardinale ha svelato divergenze e tensioni. E nella serata sono emerse ulteriori indiscrezioni, confermando che siamo giunti alla fine dell'era Maldini e Massara al Milan. È stata una decisione presa dalla proprietà, che ha comunicato a Maldini di non far più parte dei loro piani. I motivi di questa separazione sono ancora da discutere, ma sembra che la proprietà non sia stata soddisfatta dal lavoro svolto sul mercato e abbia disapprovato alcune frecciatine pubbliche. Inoltre, Maldini avrebbe richiesto un budget più consistente rispetto ai 50 milioni di euro dell'ultima stagione.